A tutte chiediamo scusa del ritardo dell'inizio di questo evento, di questo momento di confronto, di scambio sul tema dello studio universitario in carcere in occasione della firma del rinnovo del protocollo del polo penitenziario universitario regionale che è presso la casa di reclusione di Fossombrone e che è nato dalla collaborazione tra il provveditorato all'amministrazione penitenziaria dell'Emilia Romagna e delle Marche, l'Università degli Studi di Urbino e il garante per i diritti della persona della regione Marche. Stamattina ci sarà la firma del nuovo protocollo che è stato un lungo lavoro svolto veramente in squadra tra le tre parti firmatarie, dagli aspetti più concettuali al momento di riflessione che è stato questo nuovo protocollo sull'esperienza di questi sei anni del protocollo precedente. Abbiamo voluto questo incontro per avere appunto un momento di scambio, di presentazione del bilancio di questi anni, ma anche per presentare qual è la realtà dello studio universitario in carcere a livello nazionale, in quanto in questi anni è stata istituita una conferenza nazionale presso la conferenza dei rettori delle università italiane in cui questo polo si colloca. Stamattina avremo più voci su questo tema, abbiamo dovuto un po' cambiare la scaletta che ci eravamo dati in attesa dell'arrivo del provveditore, per cui iniziamo invece che dal panorama locale, dal panorama nazionale e come primo intervento io cedo la parola al professor Franco Prina, che è il presidente della CNUP, che è uno delle anime di questa realtà nazionale di cui ci parlerà, essendo lui il delegato del polo universitario di Torino, che è stato il primo, la prima realtà di polo universitario in carcere. Prego la parola al professor Prina. Grazie, non so se mi sentite e mi vedete. Un po' in freeze, ma ti vediamo e soprattutto ti sentiamo. Sì, mi chiedo scusa, sono in Ateneo, in università e pensavo fosse buona, ma vedo che non mi vedete, però mi dispiace. Ti vediamo un po' immobile, ma ti vediamo. Va bene, allora intanto vi ringrazio molto di questo invito e mi scuso anche di non essere in presenza a Urbino, avrei molto desiderato esservi, ma la mia funzione a livello nazionale mi impone di essere in diverse situazioni e non sempre facile, anche perché sto al nord-ovest e come sapete le distanze e i trasporti rendono a volte difficile conciliare i diversi impegni. Ma intanto sono molto contento di vedere ribadito in questa occasione l'impegno dell'Università di Urbino in relazione alla presenza e alla garanzia del diritto allo studio di persone che sono private della libertà. Quindi porto i miei saluti al magnifico rettore, al provveditore dell'Emilia Romagna e delle Marche e al garante dei detenuti regionale e a tutti coloro che sono presenti in questa occasione. Come ha detto la collega e amica Daniela Paiardi, io rappresento la Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari che è stata istituita presso la Conferenza dei Rettori, presso la CRUI, in allora presieduta dal professor Manfredi, che si è molto speso sia quando era rettore dell'Università di Napoli sia poi come presidente della CRUI perché questa realtà di confronto permanente e di collaborazione permanente tra Atenei avesse una veste anche formale. La collaborazione esisteva prima, l'abbiamo in qualche modo formalizzata e anche per quanto poi vi sto per dire rispetto agli impegni che abbiamo assunto. Scusami Franco, puoi provare a spegnere, perché non ti si vede adesso, a riattivare, provare a spegnere e riaccendere la webcam a vedere se… No, non succede niente. Pazienza. Andiamo avanti così. Va bene. Mi sentite però? Sì, 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 ti sentiamo. Tranquillo, vai avanti che… Allora dicevo, l'Università di Urbino è stata tra le università fondatrici della conferenza il 9 aprile del 2018, quando in 22 Atenei abbiamo firmato, abbiamo approvato l'atto costitutivo della conferenza. Da allora abbiamo fatto della strada, siamo oggi 40 università in tutta Italia, siamo presenti, stiamo facendo il monitoraggio per l'anno 21-22, che in genere però dobbiamo fare nei mesi di gennaio-febbraio per la stabilizzazione dei dati, quindi vi do i dati del 20-21. Nell'anno accademico scorso eravamo in 82 istituti penitenziari, avevamo più di mille studenti universitari iscritti a 31 Atenei, perché allora eravamo 31. Quest'anno credo che il numero sarà, sia per l'aumento di Atenei impegnati, sia per l'impegno anche di molti ad aumentare le opportunità, saremo probabilmente studenti intorno ai 1.250-1.300, il dato, ripeto, lo avremo a gennaio-febbraio. Abbiamo studenti detenuti di tutti i circuiti, quindi sia in sezione a sicurezza attenuata, sia, e molti, in alta sicurezza, sia anche una ventina l'anno scorso di detenuti al 41 bis. Lo dico perché questo ha a che fare con i principi che ci ispirano. Abbiamo anche un centinaio di persone, avevamo nel censimento dell'anno accademico scorso, un centinaio di persone in esecuzione penale esterna, molti di loro che avevano cominciato, iniziato un percorso universitario all'interno di istituto e poi maturando le condizioni per accedere a misure alternative, continuano in questo impegno di studio. Tutti insieme siamo impegnati a garantire il diritto allo studio. Noi affermiamo con forza, e lo affermo ancora anche oggi, che il diritto allo studio dovrebbe essere un diritto non compromesso dalla privazione della libertà, che è il contenuto della sanzione che lo Stato infligge a una persona. Lo priva della libertà, ma in via di principio e anche in maniera concreta dovrebbe non mai privarlo di altri diritti. Il diritto alla salute, per esempio, ma anche il diritto allo studio, il diritto all'affettività, a coltivare le relazioni affettive. Da questo punto di vista noi siamo impegnati, ci siamo impegnati in questi anni e continuiamo in maniera pervicace a interloquire con i due sistemi che hanno a che fare con queste questioni, con queste impostazioni di principio. Intanto innanzitutto a casa nostra interloquiamo col sistema universitario, perché se affermiamo che lo studio anche universitario è un diritto per chi è privato della libertà, a questo deve corrispondere, per quanto riguarda le università, a un preciso dovere. Superando quello che è stata la storia di questi poli, a partire, come ha detto la professoressa Baiardi, dalle prime esperienze torinesi negli anni 80, in termini molto volontaristici di alcuni colleghi sensibili e interessati a interloquire, ad avere un rapporto di scambio e anche a garantire questo diritto ad alcune persone, impegnandosi in prima persona. Noi diciamo davvero se è diritto per chi è privato della libertà, allora per gli Atenei è un dovere, è un dovere di garantire a questi cittadini questo diritto come a qualunque altro cittadino che ne abbia le condizioni che sono previste dalle norme. E semmai considerando come in alcuni regolamenti di alcuni Atenei compare ormai questi cittadini privati della libertà come studenti con esigenze speciali o con esigenze particolari, cioè prendendo atto che il garantire questo diritto implica una serie di impegni, di risorse, di investimento, ad esempio in tutoraggio, sempre di più anche nella didattica distanza, in una maniera che considera la loro particolare situazione. Rientra quindi, e lo dico sempre e lo ribadisco anche oggi, rientra nella prima missione dell'università, non nella terza, come forse qualcuno ritiene, cioè l'impegno civico, il contribuire al trattamento delle persone eccetera. Allora, il garantire il diritto allo studio alle persone private della libertà è prima missione. Dopodiché le università sono sicuramente anche impegnate nella seconda, con riferimento a tutta la tematica carcere, esecuzione penale, tutto quanto riguarda appunto questo universo attraverso attività di ricerca e può anche sviluppare iniziative di terza missione, ad esempio quando offre opportunità di formazione al personale, oppure quando ad esempio promuove eventi, promuove una sensibilizzazione della comunità locale a questi temi e dunque il carcere può comparire anche nella seconda e nella terza missione. Ma il diritto allo studio è prima missione. Da questo punto di vista ci siamo impegnati per ampliare la rete delle università che garantiscono questo diritto. Abbiamo siglato convenzioni regionali nell'ultimo anno e mezzo con tutte le università della Sicilia, tutte le università della Puglia che in precedenza non erano nella nostra rete e stiamo continuando in questa direzione. Il secondo interlocutore per noi è il sistema penitenziario e quando parlo di sistema penitenziario parlo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Nazionale, parlo ovviamente dei singoli provveditori dell'Amministrazione Penitenziaria a livello regionale o sovraregionale con cui abbiamo un'interlocuzione continua. Parlo anche del Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità perché da un lato abbiamo alcuni giovani adulti anche che stanno in istituti penali minorili interessati allo studio universitario, ovviamente non più minorenti ma che stanno ancora negli istituti penali minorili. E poi con tutta quell'area di esecuzione penale esterna di cui vi facevo cenno prima, dove sono impegnati anche gli UEPE, anche in una dimensione di garantire a persone che scontano pene non detentive, di poter introdurre nelle loro progettualità i percorsi di studio universitario. Da questo punto di vista, in particolare con il DAP abbiamo siglato un protocollo nel 2019 e abbiamo elaborato nell'ultimo anno, e dovrebbe essere arrivato, credo se ci sono i direttori degli istituti della zona probabilmente lo possono confermare, abbiamo elaborato delle linee guida concordate tra DAP e CNUP perché la presenza delle università all'interno degli istituti penitenziari sia una presenza garantita, regolata in maniera diciamo normale, non vi siano cioè resistenze, si superino le resistenze, perché come sapete chiunque ha esperienza con il settore e le istituzioni penitenziari ha esperienza di quanto ogni istituto presenti delle peculiarità, ogni direzione sia diversa da un'altra, ogni sistema organizzativo possa essere diverso da un altro, e noi allora diciamo che però alcune regole minime devono essere garantite, alcune condizioni minime devono essere garantite per tutti, sia perché le persone che vogliono studiare possano farlo, quindi spazi, sistemazioni, evitare trasferimenti, dico solo alcune cose, garantire sempre di più la possibilità di accesso a strumenti informatici per la didattica a distanza, e dunque tutto questo lo abbiamo collocato dentro delle linee guida e stiamo continuando a monitorare insieme al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Dal punto di vista quindi, e concludo, del nostro impegno andremo il 18 dicembre a fare la nostra Assemblea Nazionale a Milano e ribadiremo in tutti i modi questo nostro lavoro che è quotidiano e che ha anche questi momenti importanti di riconoscimento, così come quando si firmano delle nuove convenzioni che segnano il progresso, il continuare in questa strada, abbiamo anche chiesto proprio che tutto questo diventi più sistematico e abbiamo chiesto dunque negli incontri che abbiamo avuto con le due Ministre di riferimento, la Ministra dell'Università Messa e la Ministra della Giustizia Cartavia, di pervenire ad un accordo quadro che regoli proprio i rapporti tra i due Ministeri per quanto riguarda la presenza dell'Università nelle carte e più in generale nell'esecuzione penale nel nostro Paese. Da questo punto di vista stiamo continuando a lavorare anche perché agli Atenei possano pervenire a arrivare delle risorse per quegli Atenei almeno che in questo campo si impegnano, in modo che essi stessi possano sviluppare e far crescere il loro impegno nel campo. Concludo davvero dicendo che le Università però hanno una responsabilità che è più sul piano culturale. L'Università in carcere dà un segnale forte alla società. Sottolinea con forza che le istituzioni penitenziarie, le carceri, non sono solo nel territorio, ma sono del territorio, sono istituzioni che in qualche modo devono essere oggetto di attenzione da parte delle altre istituzioni che stanno nel territorio. Questo per garantire dei diritti, per evitare che le carceri si rischi a volte di non rispettare la dignità delle persone e soprattutto si faccia molta fatica e da questo punto di vista le istituzioni del territorio possono dare un grosso contributo a realizzare l'obiettivo costituzionale, che è quello di fare in modo che le pene abbiano una valenza in qualche modo di riscatto. Ecco, Franco, il collegamento si è inceppato nella fase finale, ma siamo riusciti a cogliere anche le ultime battute e soprattutto l'ultima parola con cui è finito il tuo intervento, una possibilità di riscatto. Ecco, su questo ti ringrazio del tuo intervento e di averci dato il quadro di come questa iniziativa dell'Università di Urbino si collochi nel mondo universitario nazionale, del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria si collochi nel panorama nazionale sul garanzia del diritto allo studio e poi abbiamo ovviamente e ce ne parlerà anche il ruolo del garante che è una specificità, devo dire, del nostro protocollo. Non in alcuni protocolli, ma il fatto di avere la figura del garante in questo protocollo è una specificità e un grande aiuto e supporto non solo sul piano istituzionale, ma sul piano fortemente anche simbolico a livello di società civile della regione. Il bilancio delle attività del polo, nell'ottico dello studente e dei docenti, le tappe, noi arriviamo da sei anni fa col protocollo di intesa, nel 2017 si è inserito l'ufficio del garante e oggi siamo alla firma del nuovo protocollo. Due punti del nuovo protocollo che io richiamo perché parte dal riconoscimento, questo è proprio scritto nel preamboli, risultati positivi delle necessità e delle criticità che si sono rilevate in questi anni di collaborazione e si propone di proseguire la suddetta collaborazione sia per la migliore e più efficace riuscita dei progetti realizzabili in sinergia, in prospettiva per un futuro miglioramento dell'esistente. Abbiamo, e lo vedremo, fatto molte cose che erano assolutamente impensabili senza una sinergia e una collaborazione quotidiana tra l'università, che vuol dire docenti, che vuol dire strutture amministrative, segreterie studenti, segreteria di dipartimenti, carcere, ufficio educatore, il direttore, il comandante, la polizia penitenziaria, l'ufficio del garante, senza tutta questa sinergia non avremmo raggiunto i numeri e l'attività che abbiamo svolto. Come diceva professor Prina, prima queste linee guide sono state elaborate in linea con il protocollo di intesa tra il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e la CNUP, siglate due anni fa. Qualche numero, perché nonostante io sia un ricercatore, a volte i numeri possono essere sterili, ma i numeri qua ci possono dare e possono dare a voi e a noi che ci abbiamo lavorato il segno di che cosa hanno voluto dire questi anni. Noi oggi abbiamo 19 studenti, negli anni precedenti abbiamo raggiunto anche numeri più alti, tenendo presente che due anni fa a Fossombrone è stato chiuso per ristrutturazione una sezione, quindi la sezione di media sicurezza è stata chiusa e anche in quel caso il coordinamento nazionale ci ha permesso di trasferire i nostri sette studenti in quella sezione e in altri poli con un grande coordinamento con i docenti e con le strutture didattiche di arrivo dei nostri studenti. Sono iscritti a dieci corsi di laurea, abbiamo dieci corsi di laurea coinvolti, la ricchezza di questa offerta formativa è piuttosto ampia e comporta ovviamente una macchina complessa. I nostri studenti in questi anni hanno sostenuto 282 esami. Il nostro protocollo è un protocollo particolare dal punto di vista degli esami, perché più di altri, anzi alcuni non lo mettono proprio, ma noi abbiamo scelto di mettere un vincolo. Un vincolo che prima era 20 crediti, nel nuovo protocollo sono 18 per un problema di multipli degli esami, per cui uno studente che vuole rimanere nel polo deve sostenere almeno tre esami all'anno, più o meno a seconda dell'unità di misura dei vari esami, perché lo consideriamo un elemento importante sulla motivazione dello studente sull'impegno reciproco, nostro e loro. Abbiamo avuto quattro laureati, uno in scienze tecniche psicologiche, che l'allora rettore professor Stocchi è venuto a laureare in presenza alla Casa di Reclusione, due in informazione media e pubblicità, che si sono laureati online, e un altro che si è laureato quest'estate sempre presso la Casa di Reclusione. Allora, cosa comporta questi risultati? Una grande macchina dal punto di vista della didattica. In media, ogni anno, 45 docenti sono stati disponibili a tenere almeno un paio di lezioni in carcere di riassunto, di presentazione, di esame degli argomenti più difficili. C'è chi ne ha fatti di più e alcuni molti di più. In media, ogni anno, 90 docenti hanno fornito materiale didattico. Ovviamente, non c'è nessun collegamento per gli studenti con internet, quindi tutto il materiale che entra dalle slide alle registrazioni, rientra dall'esterno e deve essere appunto fornito ad hoc. Abbiamo un servizio di tutorato, che ha previsto in questi anni 530 giornate di tutorato, che si è occupato sia delle questioni amministrative, dell'orientamento, ma anche molto di un supporto allo studio individualizzato e insieme studenti che hanno attività, che fanno lo stesso corso. Attenzione, noi siamo prevalentemente in un regime di alta sicurezza, quindi anche questa dimensione di contatto tra gli studenti che possano studiare insieme è qualcosa che viene favorito e aiutato dall'attività di tutorato. Contatto con i docenti, l'organizzazione delle lezioni, dei seminari, degli esami. Il servizio è stato garantito grazie alla possibilità di dare dei contratti ad alcuni tutor, grazie a un finanziamento dell'Ufficio del Garante e un autofinanziamento del mio centro di psicologia giuridica, cioè del centro di psicologia giuridica che io dirigo e da circa 10 tutor volontari. Per quanto riguarda la lingua inglese, è stato creato apposta un progetto di formazione, Pathway to Inclusion, grazie alla collaborazione tra un docente dell'università, un ex docente e alcuni docenti a cui è stato possibile fare un contratto grazie a un finanziamento dell'ATS di Fossombrone. Questo è molto importante perché l'inglese è trasversale a tutti i corsi, quindi sono stati fatti delle attività in gruppo e individuali per aiutare gli studenti a raggiungere il livello richiesto, ma anche per aprirsi a una diversa cultura, il confronto con la cultura inglese come esempio di confronto con una cultura diversa e non solo dell'aspetto strettamente grammaticale. Lavoratori didattici obbligatori per il corso di scienze tecniche e psicologiche, i laboratori sono a frequenza obbligatoria e lo sono anche per i detenuti, quindi abbiamo portato gli studenti in carcere a fare il loro laboratorio e ci porterà una testimonianza Giovanna Mariani che ha partecipato a uno di questi laboratori. Non potendo portare gli studenti a fare il laboratorio a Urbino, abbiamo portato i nostri studenti a fare questa esperienza. Seminari interdisciplinari tenuti da docenti di varie materie e anche della società civile, non è solo didattica, è anche momento di inclusione e di contatto e di inclusione sociale. In questi anni abbiamo organizzato due incontri all'anno, ovviamente prima del Covid, studenti dentro e studenti fuori che hanno visto coinvolti oltre 550 studenti dell'Ateneo di diversi corsi di laurea in un momento di contatto, di confronto con la struttura del carcere, gli operatori penitenziari e i loro studenti, colleghi studenti. Mi piace riportare quello che ha detto a fine di un incontro con una studentessa che ha detto eravamo qua a parlare io di essere in carcere, per un momento non mi sono resa conto, stavo parlando con i miei colleghi studenti. Stavamo parlando noi studenti. Studenti in permesso, interverrà poi il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, in questi anni abbiamo avuto due studenti che hanno avuto il permesso di frequentare uno o due giorni in università e uno studente che ha frequentato i laboratori, il suo laboratorio all'esterno. Ovviamente le autorizzazioni dipendono dalle posizioni giuridiche dei detenuti. Nell'ambito di questo permesso noi avremo dopo la testimonianza anche di un nostro studente del Polo che oggi è stato autorizzato a essere presente. Uno studente ha avuto il permesso per partecipare alla nostra Erasmus Week di contatto con i docenti di altre università che ospitano i nostri studenti e anche Erasmus a portare la testimonianza dello studio della lingua inglese in carcere. Parlava prima il Professor Prina, ci sono anche degli aspetti organizzativi delle linee guida che sono arrivate ai direttori. Ovviamente avendo lavorato come rappresentante di Urbino all'ACNUP, ho giocato d'anticipo su queste linee guida, e in questi anni non senza difficoltà in una struttura molto vecchia come struttura muraria e molto complessa da gestire per i pochi spazi a disposizione, però ci è stata data un'aula e di questo veramente è stato un grande impegno, un'aula dedicata all'interno della sezione, chi entra, dei studenti e dei docenti entrano in sezione, attraversano mezzo corridoio e secondo me è un momento importante per minimamente avere un'idea emotiva di dove si entra. Abbiamo attrezzato con PC, proiettore, non collegato a internet, sedie, i manifesti dell'università, è un momento di, è un'aula universitaria in carcere. una rete di segreteria dei dipartimenti, un presidio di riferimento nella segreteria studenti che si occupa in modo unico di riferimento per le problematiche complesse del polo, per darvi un'idea, sono gli unici che gestiscono iscrizioni cartacee e tutto cartaceo, banalmente questo rende, e tanti aspetti rendono complessa la macchina. Un regolamento, diceva prima il professor Prima, la possibilità di accedere, è complicatissimo l'accesso di materiali dall'esterno, dei DVD, dei CD non riscrivibili, dei libri. Noi abbiamo creato, con la precedente direttrice, un regolamento apposta per facilitare questo, l'accesso di questo materiale che come vedete è veramente notevole. la possibilità, quando è stato possibile, dopo l'evento dell'emergenza, di collegamenti in remoto per gli esami e i laboratori durante le chiusure. E la disponibilità, di cui io ringrazio molto l'amministrazione, la nostra tutor è stata tra le prime in Italia a rientrare dopo l'emergenza Covid. Subito la possibilità di, questo vuol dire un grosso riconoscimento allo studio in carcere da parte dell'amministrazione, perché rispetto ad altre esigenze, e ne avevano tante, eravamo a giugno, eravamo in una situazione ancora di allarme, appena è stato possibile la dottoressa Terni è rientrata. Questo cosa, una cosa sul remoto, nel protocollo c'è, lavoreremo sul remoto, ma come possibilità di intervento, non come scelta prioristica. Noi vorremmo che i professori e gli studenti entrassero in carcere il più possibile entrare in contatto con questo mondo e non solo dietro uno schermo. Un grande aspetto anche che contraddistingue Orbino rispetto ad altri Atenei, tutta l'attività che vi ho descritto dei docenti è un'attività volontaria. Solo da poco, grazie a un'attenzione della governance dell'Ateneo e dei dipartimenti, i professori possono avere le ore che svolgono in carcere come riconoscimento del loro carico didattico obbligatorio e questo aiuta comunque la possibilità di coinvolgere i colleghi. Vado a chiudere. I docenti in carcere a insegnare. Non è facile chiedere a un docente che viene in carcere a fare due lezioni. C'è diffidenza, c'è curiosità, c'è timore, ci sono ideali sociali. Abbiamo assistito a persone che diffidenti erano e diffidenti sono rimaste. Persone che diffidenti erano e si sono trovati con degli studenti motivati a studiare, ad approfondire che non avrebbero mai pensato. I nostri studenti del Polo studiano per studiare, hanno molto spesso l'ergastolo, hanno pene lunghe, non studiano per andare a lavorare tra tre anni. Studiano per la cultura, studiano, ed è una motivazione che molto spesso i docenti si trovano a conoscere e ad apprezzare. Non si entra in carcere solo per insegnare o forse lo si fa anche perché a volte non si ha il coraggio di dirmi di no, ma diventa per molti un momento di confronto sia con le persone che con un'istituzione che non conosciamo se non spesso per luoghi comuni o mass media, ma anche un momento di riflessione con se stessi. Da qui ripartiamo. Una frase di uno detenuto, la cultura e il sapere rendono l'uomo libero anche se fisicamente ristretto, e un manufatto che vedete sulla scrivania. È il Tempio di Atenac-Niche, è la riproduzione in scala fatta da un detenuto con la tecnica dell'origami che lui ha imparato in carcere. È uno studente di beni culturali, ha fatto l'esame di archeologia classica e ha fatto quest'opera con fogli A4 e colorati con le cenere della sigaretta. Da qui ripartiamo, dalla motivazione che loro ci danno e dal desiderio di dare una possibilità. Poi può essere colta, non essere colta, studiare un diritto e dare una possibilità per dimostrare a se stessi e agli altri che si può essere qualcosa oltre il proprio reato. chiedo alla dottoressa De Lorenzo la dottoressa De Lorenzo che è direttore della casa di reclusione di Fossombrone e anche di Ravenna, cioè il dono dell'ubiquitale hanno fornito. Eh sì, non sono l'unica. Allora, buongiorno a tutti è per me un onore ed un vero piacere essere qui oggi con voi e per questo ringrazio il rettore dell'Università di Urbino per l'ospitalità la professoressa Paiardi per l'organizzazione di questa giornata celebrativa di un momento molto importante che appunto è relativo alla sottoscrizione del rinnovo del protocollo per il polo universitario all'interno della casa circondariale di Fossombrone tra l'amministrazione e il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'Università di Urbino e il garante regionale dei diritti della persona per le regioni Marche. Sono, come diceva la dottoressa Paiardi il direttore titolare della casa circondariale di Ravenna e dirigo in missione dal mese di marzo del corrente anno anche la casa di reclusione di Fossombrone. Quindi non ho vissuto la nascita del polo universitario ma i risultati le informazioni veicolate dai vari operatori e i risultati di cui parlava poc'anzi la dottoressa Paiardi devo dire che non possono che farmi esprimere in termini assolutamente positivi favorevoli e incomiabili rispetto a questa grandissima esperienza del polo universitario all'interno dell'istituto di Fossombrone un istituto che negli anni settanta è entrato a far parte del circuito delle supercarceri individuato dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa per le garanzie di sicurezza che offriva possiamo dire che oggi è una realtà attiva e culturalmente vivace questo grazie proprio al lavoro dei diversi operatori penitenziari che in maniera forte e convinta hanno creduto nell'importanza e nel valore dello studio e dell'istruzione proprio nella consapevolezza che le attività organizzate all'interno del carcere possono favorire e contribuire alla crescita personale e culturale del soggetto oltre che ridurre i tempi di inattività e noia che possono portare ovviamente all'alienazione e quindi ad ulteriori problematiche per cui nel rispetto dei dettami costituzionali in primis dell'articolo 27 secondo cui le pene la finalità della pena deve essere rieducativa e l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario che ha introdotto tra le attività trattamentali l'istruzione possiamo dire che negli ultimi vent'anni la casa di l'istruzione lo studio i percorsi formativi rappresentano un punto di forza all'interno dell'istituto penitenziario risale ancora al 97 l'istituzione del corso di scuola superiore che è andata a completare l'offerta formativa creata già che esisteva già da diverso tempo rispetto al corso di scuola elementare al corso di scuola media ovviamente erano anni difficili erano anni in cui il livello di scolarizzazione delle persone era assolutamente basso la gran parte dei detenuti non avevano effettuato un percorso né di scuola media né di scuola superiore per cui raramente ci si trovava di fronte a detenuti laureati o che avessero intrapreso un percorso di studi universitari erano anni in cui quindi i colloqui dei vari operatori penitenziari con i detenuti erano finalizzati proprio a sollecitare la presa di coscienza della centralità della cultura proprio per avviare un percorso di cambiamento che attraverso l'aiuto di operatori esperti potesse aiutare potesse portare al cambiamento della persona oltre che alla presa di distanza dalle logiche devianti che avevano portato alla carcerazione nell'istituto di Fossombrone ci sono persone detenute con pene molto alte parliamo di 10 20 30 anni senza soluzione di continuità in alcuni casi anche con fine pena mai ma parliamo di persone quindi che dovevano un'utenza la cui prospettiva futura era da ridisegnare all'interno del carcere ma è un'utenza anche che ha compreso nella gran parte dei casi appunto l'importanza di effettuare un percorso di maturazione e di consapevolezza il contatto alla collaborazione con l'università ha avuto inizio già nel 1997 quando alla direzione è stata chiesta una testimonianza sulla realtà del carcere rivolta agli studenti universitari da lì in avanti il percorso di collaborazione è aumentato sempre più aumentando in vari ambiti e con diversi progetti proprio perché l'offerta formativa nell'istituto di Fossombrone era ormai completa si assiste si è assistito a in diversi casi a persone che autonomamente si iscrivevano all'università per cui da lì è nata l'idea con il direttore protempore e il gruppo d'osservazione e trattamento di avviare un percorso ancora più strutturato e costruttivo con l'università per cui si è arrivato in un primo momento alla firma di una convenzione che prodromica poi alla stipula di un vero e proprio protocollo di intesa che come diceva prima la professoressa Paiardi è stato sottoscritto nel 2015 le volontà erano forti erano rispetto a questa iniziativa a questo percorso e possiamo dire che oggi il polo è diventata una realtà assolutamente significativa all'interno dell'istituto naturalmente non senza problemi non senza difficoltà come diceva la professoressa Paiardi dall'individuazione delle aule all'organizzazione delle lezioni all'organizzazione quindi dei servizi nostri interni all'ingresso del materiale didattico e materiale didattico anche sul supporto informatico ma ripeto la volontà è stata assolutamente forte e oggi possiamo dire che questa grandissima opportunità che viene offerta ai detenuti della casa di reclusione di Fostombrone è stata estesa da quest'anno anche ai detenuti ristretti negli altri istituti penitenziari italiani è di pochi giorni infatti l'interpello nazionale che è stato indetto dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che estende appunto questa grandissima opportunità a tutti i detenuti che ne fossero interessati lo studio nella sua accezione più ampia rappresenta per i ristretti una possibilità di cambiamento quindi rispetto al proprio stile di vita formulando degli obiettivi nuovi raggiungibili nonostante la privazione della libertà quindi è proprio attraverso lo studio che le persone hanno ben compreso che anche dentro le mura del carcere possono ritagliarsi questo piccolo spazio di libertà l'esperienza del Polo è inutile dire è un'esperienza che deve essere assolutamente portata avanti assolutamente bisogna continuare a sostenerla e per questo devo dire grazie a tutti gli operatori della casa di reclusione di Fossombrone che si sono adoperati per il corretto funzionamento del servizio anche durante il periodo della pandemia a parte la primissima fase in cui ovviamente per motivi che ben tutti conoscete c'è stato un'iniziale sospensione delle attività quando c'è stata la ripresa devo dire che tutti si sono adoperati in maniera forte perché venisse garantito anche a distanza lo svolgimento delle attività previste e io consentitemi un mio personale ringraziamento a tutto il personale della casa di reclusione di Fossombrone al responsabile dell'area trattamentale dottor Proietto alla dottoressa Rutigliano che è il funzionario che direttamente segue il polo universitario al comandante del corpo di polizia penitenziaria dottoressa Marta Bianco e a tutto il personale di polizia penitenziaria che comunque è stato coinvolto e coinvolto in questa come in tutte le altre attività come dico sempre senza la loro forza tutto questo non sarebbe assolutamente possibile perché non è assolutamente scontato capite bene quali possono essere le problematiche all'interno di un istituto penitenziario che dire un ringraziamento ovviamente al nostro provveditore dottoressa Manzelli che con il dottor Bonfiglioli e la dottoressa Faggiano dell'ufficio detenuti e trattamento ci sostiene sempre e continua a sostenerci in maniera forte grazie al magistrato di sorveglianza che ha consentito la presenza qui oggi con noi di un nostro studente che porterà la sua testimonianza in uno dei prossimi interventi grazie a tutti grazie lettore grazie professoressa grazie garante grazie a tutti e buona continuazione di giornata si è collegato il presidente Raffaele Agostini buongiorno la ringrazio perché ha dovuto sospendere le udienze perché il mercoledì c'è udienza al tribunale di sorveglianza però ha voluto essere collegato con noi in questo momento e la sua presenza è particolarmente significativa perché il tribunale di sorveglianza oltre al discorso dei permessi per gli studenti è oberato dalla quantità infinita di richieste che noi facciamo per entrare quindi per entrare i docenti per entrare gli studenti e quindi è particolarmente importante anche che oggi sia qui con la sua testimonianza a lei la parola e grazie presidente buongiorno a tutti si sente la mia voce bene intanto mi scuso per essermi collegato in ritardo e mi scuso in anticipo perché dovrò scollegarmi prima del termine perché come diceva la professoressa il mercoledì per la sorveglianza delle marche è un giorno particolare è il giorno nel quale si tiene l'udienza del tribunale di sorveglianza i magistrati di sorveglianza hanno funzioni monocratiche e funzioni collegiali il mercoledì è dedicato alle udienze del tribunale per farvi capire noi oggi in un'altra stanza stiamo trattando 85 posizioni cioè parliamo di 85 soggetti condannati che è un numero elevatissimo ovviamente questo numero non significa che vi è una valutazione superficiale perché vi è un lavoro a monte istruttorio c'è un lavoro del relatore molto attento che rende i dotti gli altri io in realtà non ho sospeso nulla ma mi sono fatto sostituire per un'oretta poi riprenderò la presidenza avremo la camera di consiglio e andremo a lavorare fino al pomeriggio inoltrato comunque spiace soprattutto non essere in presenza il motivo è quello che ho detto spiace perché questa è un'iniziativa assolutamente meritevole io non ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto debbo dire che edicherò qualche minuto a quelli che sono degli aspetti di cui normalmente i giudici di sorveglianza si occupano che sono praticamente la salvaguardia la tutela la garanzia di quelli che sono i diritti dei detenuti qualcuno potrebbe anche dubitare e ritenere che i detenuti in quanto tali abbiano meno diritti o abbiano una situazione assolutamente di deficit rispetto ad altri soggetti diciamo invece con una certa enfasi c'è qualcuno che ha provato a fare delle ricerche o delle individuazioni di disposizioni normative e ritiene che vi siano dei casi in cui paradossalmente il detenuto ha una situazione giuridica soggettiva addirittura più favorevole del libero si fanno degli esempi se avessimo tempo potremmo fare anche delle ricerche qualcuno dice cita per esempio l'articolo 45 del regolamento esecutivo che prevede dei benefici economici per gli studenti che non sempre sono diciamo in qualche modo vincolati o dipendono dal profitto o dal reddito come invece accade per gli studenti al di fuori pensiamo alla medicina penitenziaria sappiamo tutti che il soggetto straniero clandestino sprovvisto di permesso di soggiorno all'interno del carcere fruisce del servizio sanitario nazionale cosa che invece al di fuori non avviene i detenuti inoltre non sono tenuti ad alcuna contribuzione per quanto riguarda il servizio sanitario ma è innegabile che i detenuti abbiano delle limitazioni fortissime è compromesso e compresso il diritto fondamentale alla circolazione alla libertà personale sugli altri diritti ogni giorno i magistrati di sorveglianza sono chiamati a decidere in quanto garanti dei diritti dei detenuti e quindi potremmo fare anche varie classificazioni parlare di vari esempi di varie questioni che accadono potremmo parlare dei diritti legati alla integrità fisica dei detenuti e qui abbiamo il diritto alla salute che è un mondo assolutamente attualissimo del quale ci dobbiamo confrontare ogni giorno pensiamo alla tutela dei rapporti familiari e sociali tutta la tematica dei colloqui la tematica della corrispondenza e della censura della corrispondenza abbiamo avuto e abbiamo dei casi particolari ad esempio io ricordo che quando ero magistrati di sorveglianza al carcere e mi occupavo del carcere di Ascoli che ospitava i 41 bis c'era qualche detenuto che intendeva partecipare alla 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 messa e poiché si trattava di 41 bis in particolare ricordo anche Salvatore Rivina la messa era ad personam cioè esclusivamente per un detenuto ricordo questioni relative a richieste di autorizzazione e effettuazione dell'inseminazione artificiale per quanto riguarda sempre questi aspetti la tutela diciamo dei rapporti familiari e sociali ricordo anche questioni relative al diritto al lavoro e quindi richieste sempre più pressanti che poi sono diventate anche richieste di ferie per i detenuti che lavoravano quindi insomma questioni veramente molto particolari anche recentemente mi è capitato di vedere che molti detenuti si stanno lamentando perché chiedono che vengano istituite delle celle per non fumatori che è una questione di cui io già mi occupai molti anni fa che adesso torna ad essere ricorrente questo per dire come sono veramente tantissime le questioni di cui il maestro di soveglianza deve occuparsi oggi questa occasione ci consente di soffermarci invece in particolare sui diritti io definisco relative all'integrità morale e culturale che sono sanciti dalla nostra Costituzione in vari articoli in particolare sappiamo che c'è l'articolo 19 che la Costituzione dell'articolo 34 che ci dice che in qualche modo la Repubblica deve rendere effettivo il diritto allo studio ma se il legislatore costituzionale è stato abbastanza puntuale e preciso e si esprime dicendo che un diritto deve essere assicurato che un diritto deve essere reso effettivo assistiamo invece al legislatore ordinario che io dico per così dire è più timido perché parla di agevolazione di favorire un diritto si esprime dicendo possono fare dice ove possibile quindi si auspicano invece degli interventi più energici sotto sotto questo aspetto degli interventi sicuramente sicuramente più incisivi il diritto allo studio è sicuramente fondamentale per un detenuto perché è fondamentale non solo per il futuro del detenuto perché ovviamente questo titolo che dovesse acquisire potrebbe essere spendibile successivamente laddove torni a riacquistare la libertà in alcuni casi è sicuramente spendibile è un accrescimento culturale ma può essere anche utilizzato inoltre può consentire al soggetto anche di dimostrare al al mondo esterno che l'immagine che ha dato in quanto autore di reati in quanto ex detenuto è diversa ma non solo per il futuro è importante il diritto allo studio è importante anche per il presente perché ovviamente consente di avere degli stimoli di avere una crescita di non contare passivamente subinamente i giorni che passano ma di avere un impegno che in qualche modo determina un miglioramento un accrescimento quindi sotto questo profilo sicuramente è fondamentale che ci siano queste queste iniziative che vanno sicuramente favorite in ogni modo ora il diritto allo studio va coniugato con altre esigenze diciamo il diritto allo studio consente la realizzazione dell'articolo 27 della costituzione sulla rieducazione del condannato perché la rieducazione è una nuova educazione e quindi è una rinascita se vogliamo è una ripartenza quindi diciamo sotto questo profilo sicuramente viene attuato ma poi questo diritto va coniugato con aspetti legati alla sicurezza sociale legati cioè ad altre situazioni e man mano che in qualche modo la pericolosità sociale del detenuto ricavabile dal suo curriculum dal dal tipo di reati commessi dall'abitualità e dalla continuazione nel nei compostamenti antigiuridici ecco rende sempre più difficile perché è ovvio che il detenuto che ha una pena inferiore ai quattro anni o che in qualche modo non abbia reati ostativi dice dice l'articolo 30 terre può uscire in ogni momento quindi può essere concesso un permesso anche immediatamente al detenuto sotto i quattro anni che in qualche modo non abbia reati ostativi invece per quelli sopra quattro anni bisogna avere spiato un quarto di pena poi metà pena eccetera eccetera chiaramente più aumenta la caratura diciamo così criminale più bisogna porre attenzione io mi sono ho avuto in passato questioni di studenti universitari o che volevano sostenere esami e la cosa più normale più logica è il permesso ma avevamo anche il ricordo a Camerino quando era aperto l'istituto in alcuni casi è stato autorizzato l'ingresso di vere e proprie commissioni all'interno del carcere dove sono state tenute delle sessioni di esami ad Ascoli avevamo i 41 bis 41 bis c'era il problema diciamo anche solo dei testi perché la censura della corrispondenza imponeva di porre un'attenzione particolarissima a questi a questo aspetto e quindi dicevo più aumenta il la pericolosità sociale tra virgolette e più diventa difficoltoso consentire l'esercizio del diritto allo studio credo anche in una precedente occasione parlando con la professoressa di aver affrontato questo delicato nodo del detenuto studente universitario e dell'istituto del permesso premio che può essere dato fino a 45 giorni in un anno e che quindi consentirebbe spesso e volentieri anche di frequentare delle lezioni l'articolo 30 terre se lo andiamo a leggere ci dice infatti che tra i motivi per i quali si può dare un permesso ci sono proprio i motivi culturali però ahimè la norma richiede anche altre cose richiede cioè sia una una disamina della della condotta interna carceraria intramuraria e quindi programma di trattamento che deve prevedere direttore ma anche una prognosi di cessata pericolosità sociale una prognosi di non recidivanza e questo è un po' difficile perché nessun libro ci dice quando è che è cessata la pericolosità sociale e qui si fanno delle indagini personologiche cercando di attingere da varie fonti da varie questioni eccetera e soprattutto il primo permesso premio quello delicato perché poi la Cassazione ci ha detto che non si può tornare indietro una volta che è iniziato il programma che prevede anche l'avvio di esperienze extramurari non è più consentito dire vabbè hai avuto due permessi però il terzo no perché adesso mi sono risorvenuti dei dubbi sulla tua questione quindi diciamo ecco va garantito e va agevolato e questa iniziativa sicuramente è assolutamente meritevole soprattutto io ho sentito poco degli interventi precedenti però ho ascoltato un passaggio della direttrice di Fossombrone che è un passaggio felicissimo quando ha detto che vi è una recente estensione nazionale di questa possibilità questo è importante e così mi avvio anche alla conclusione di questa breve conversazione perché io come ho accennato ho fatto il magistrato di sorveglianza per dieci anni poi ho fatto altre cose adesso sono tornato in questo mondo mi è capitato spesso di fare dei convegni di partecipare interventi eccetera in cui a volte con colleghi della cognizione a volte con studenti a volte con soggetti laici che appartenevano ad altre categorie e sovente c'è una comprensione difficile degli istituti relativi all'esecuzione penale spesso si chiede ma la certezza della pena non esiste più non si capisce più niente chi esce chi entra eccetera giudici di cognizione cioè del primo grado o del secondo grado spesso parlando con i magistrati di sorveglianza quasi li rimproverano di vanificare gli sforzi compiuti per arrivare a una condanna sia i pubblici ministeri che i giudici ma in realtà mentre i giudici di cognizione non sanno quali sono le norme le discipline della sorveglianza e dell'esecuzione per fortuna i giudici di esecuzione e di sorveglianza conoscono invece ciò che accade prima e spesso si chiedono se il giudice che ha condannato una persona a 4 anni e 15 giorni si è resa conto che per quei 15 giorni quel soggetto farà ingresso in carcere mentre invece con una condanna a 4 anni che sotto un profilo della retribuzione è identica a 4 anni e 15 giorni si è liberi sospesi dicevo in buona sostanza che il problema non è la certezza della pena esistono le norme esistono le misure alternative esistono delle possibilità il problema è la disparità di trattamento e la disparità di trattamento significa che se due soggetti commettono la stessa rapina e vengono condannati alla stessa pena identica pena non è giusto secondo me che la loro esperienza carceraria sia diversissima perché uno è finito a lucciardone e uno è finito a fermo è questo che bisogna equiparare non è plausibile che in un carcere si debba avere problemi a parte il sovraffollamento che ce l'hanno quasi tutti però problemi di promiscuità problemi di mancanza di attività da svolgere mentre in altri carceri c'è la ludoteca c'è lo spazio verde per incontrare e allora ecco che questa iniziativa è di per sé importante utile e va sicuramente incrementata io leggevo un dato recente secondo cui non so se è aggiornatissimo ma era relativo all'anno accademico 2020-2021 che dice che attualmente gli studenti ce l'ho da qualche parte gli studenti i detenuti i studenti universitari sono questo è un dato della conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari sono nell'anno accademico 2020-2021 sono 1034 studenti 970 uomini 64 donne 925 detenuti e 109 impegnati in lavoro esterno o in esecuzione penale esterna sono 32 università impegnate e così via di 100 ma i detenuti sono oltre 50.000 quindi bisogna sicuramente aumentare e attenuare far cessare questa che è il vero problema la disparità di trattamento carcerale da un istituto all'altro anche per la stessa pena anche per la stessa contatto grazie e qui vi caccio e che penso di aver superato il termine solo una battuta al suo intervento questo problema della disparità del coordinamento prima ha parlato proprio il presidente della CNUP e anche in uno degli incontri annuali della CNUP e sono stati proprio invitati dei magistrati di sorveglianza per cercare di avere un'interlocuzione con loro e creare in qualche modo una sorta di coordinamento di contatto di confronto perché appunto ci sono situazioni molto diverse nei poli nelle carceri nei provveditorati e nei tribunali di sorveglianza quindi un po' anche l'obiettivo ambizioso ecco della CNUP è quello di creare delle sinergie dei confronti dell'omogenità a livello nazionale ci siamo riusciti col DAP non senza tanta fatica da parte della CNUP e del professor Prina e quindi anche questo discorso di confronto con la magistratura di sorveglianza di reciproca conoscenza e di provare a trovare delle interpretazioni comuni che tutelino effettivamente il diritto allo studio grazie presidente grazie grazie del suo del suo intervento a questo punto passiamo alla firma del protocollo e poi agli interventi finali di studenti e tutor per cui chiamo il magnifico rettore professor Giorgio Calcagnini il provveditore dell'amministrazione penitenziaria della regione della Emilia Romagna e delle Marche dottoressa Gloria Manzelli il garante per i diritti della persona della regione Marche avvocato Giulia Nelli se vogliono fare un intervento se facciamo la firma e poi facciamo un breve intervento di ciascuno grazie grazie Grazie. Scusate, ho un altro impegno e quindi vi devo lasciare fra pochi minuti, però devo dire che è stato un evento molto sentito da tutti gli attori che stanno intorno a questo progetto. E come ha detto il professor Prina all'inizio, si tratta di diritto allo studio, sappiamo quanto sia importante per i giovani che appunto non sono detenuti. E quindi è chiaro che per chi è detenuto, per chi è privato della libertà, lo sforzo che viene fatto per studiare è probabilmente molto maggiore. E dall'altro lato per gli studenti che invece sono liberi, aver partecipato, poter seguire questo video, dovrei far capire loro la fortuna che hanno di poter godere della libertà e quindi di metterci ancora più impegno per raggiungere quegli obiettivi formativi che sono gli strumenti che sono gli strumenti per muoversi nel mondo del lavoro, nella società. Quindi ringrazio di nuovo tutti e questo rinnovato impegno da parte di tutti gli attori, dicevo, è sicuramente un contributo importante per persone appunto che stanno in questo momento in condizioni difficili. Grazie. Buongiorno a tutti. E intanto mi scuso per il ritardo con cui siamo arrivati ma un imbottigliamento all'ingresso dell'autostrada di Bologna ci ha poi portato a questo imperdonabile ritardo di circa mezz'ora. Comunque spero che sarete clementi se non altro per la distanza. Ringrazio il rettore dell'università, la professoressa Paiardi, il garante regionale e naturalmente tutti voi, il direttore dell'istituto di Fossombrone, il comandante, capo area pedagogica e tutti gli operatori del carcere di Fossombrone perché come si diceva prima correttamente, la dottoressa Di Lorenzo lo ha rimarcato, questi progetti devono avere poi gambe da entrambe le parti per poter proseguire, per poter andare avanti, per poter essere, poter arrivare ad una concretizzazione. La concretizzazione è che questa esperienza di polo universitario, chiedo scusa penitenziario, in questo caso polo universitario regionale, è ormai una tradizione nel territorio marchigiano e quindi nell'istituto di Fossombrone. Ma credo che sia anche una delle prime esperienze italiane di questo tipo, così strutturate, soprattutto dedicate a detenuti di un certo circuito. Quindi ha una tradizione assolutamente consolidata che ci onora e che ci conforta nell'andare avanti. Questo però ci insegna anche un'altra cosa, è stato detto tanto sul valore e sull'importanza dello studio, sull'importanza della presenza del territorio. Però questo, ripeto, apre una riflessione molto importante, peraltro a me molto cara, io ho fatto il direttore per più di 28 anni, 30 anni, in un'altra regione, la Lombardia. Questo ci insegna come il mandato costituzionale, la funzione della pena, che conosciamo tutti, consiste nella rieducazione del condannato, è un'attività, un onere, un impegno, un dovere, che non è di competenza esclusiva dell'amministrazione penitenziaria. L'amministrazione penitenziaria è solo un tassello di questo coro, di questo percorso che è molto lungo, molto complesso. Ma certamente l'amministrazione penitenziaria non può assolvere e non ha le forze, le risorse e le competenze per poter assolvere in solitudine questa funzione che è troppo alta, troppo impegnativa, troppo complessa, ripeto, per poter essere demandata solo ed esclusivamente a un settore dello Stato. Ecco perché tutti gli altri partner istituzionali, ecco perché il territorio diventa fondamentale. Quello che diceva prima il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, la disparità di trattamento. In che cosa consiste la disparità di trattamento? In quello che diceva il Presidente. Se il detenuto ha la fortuna di finire a Fossombrone o in un qualsiasi altra realtà, nelle Marche ci sono diverse attività lavorative all'interno degli istituti per condatori di lavoro esterno, ma cito semplicemente Barcaglione. Allora ha un certo tipo di possibilità se quel detenuto riesce ad arrivare in determinati istituti penitenziari. Viceversa, se arriva in altri istituti penitenziari, vive il momento della carcerazione come un momento di vuoto assoluto, un momento di non tempo, un momento che lo rende totalmente avulso dal contesto, ma anche dal contesto sociale. Per cui rimettere in libertà una persona che non ha avuto nessuna opportunità all'interno del carcere e rimettere sul territorio una recidiva quasi certa, cioè una possibilità e probabilità di commettere il reato estremamente elevata. E questa è una responsabilità morale che ci dobbiamo prendere tutti quanti, perché non può essere lasciata al buon cuore del direttore dell'Istituto X o del garante regionale o della professoressa Paiardi queste iniziative, ma devono essere assunte a livello istituzionale ovunque sul territorio nazionale. E ripeto, io condivido molto quello che è stato detto dal Presidente, la disparità di trattamento è una delle peggiori piaghe che ci sono nell'amministrazione penitenziaria. E su questo dobbiamo, ripeto, chiamarci in causa tutti quanti. Per esempio, negli ultimi tempi abbiamo vissuto un anno e mezzo drammatico, non solo nelle nostre vite private, familiari, nelle sociali, ma immaginate quello che è successo all'interno degli istituti penitenziari e quello che ha potuto significare l'isolamento, la pandemia, il lockdown, quindi tutte le attività chiuse. Ma quindi anche la risposta sanitaria, la relazione con le autorità sanitarie, che non è stata sempre ovunque, della stessa tempestività e della stessa prontezza. Qualche problema non me ne vorrà il garante, ma esiste nella Regione Marche, sono problemi molto molto importanti perché dall'oggi al domani sospendono i servizi di assistenza sanitaria senza neanche, come dire, preavvisare. Questo è una, secondo me, una cosa di una gravità estrema, ritenere che in carcero o nei confronti della popolazione detenuta certi servizi che non sono rimessi alla competenza dell'amministrazione penitenziaria possano essere interrotti dall'oggi al domani senza colpo ferire o senza pensare che all'interno dell'istituto nulla possa succedere. Queste sono cose di una gravità estrema, le abbiamo denunciate poco fa col garante, parlavamo di alcune iniziative che vorremmo e dovremmo prendere a breve proprio su questi aspetti. Però è fondamentale che il carcere sia vissuto come un tassello, un segmento della rete istituzionale che deve convergere verso la rieducazione del detenuto, verso un'azione di trattamento e di sostegno forte perché quella persona non debba a fine pena commettere altri reati. E bisognerebbe partire però anche in questo caso da lontano. Quindi già nella creazione degli istituti penitenziari, nella progettazione degli istituti penitenziari dovrebbero essere creati spazi da dedicare alle attività trattamentali, perché gli spazi sono un elemento fondamentale, gli spazi determinano, possono determinare la qualità dei servizi che l'istituto e quel territorio possono erogare. Però su questo siamo forse, non dico al Medioevo ma prima, pensate che alcune realtà, soprattutto delle Marche, sono state, sono nate o comunque sono state poi, hanno virato verso un certo tipo di detenzione. Si parla degli anni di piombo, si parla di un periodo storico in cui certamente insomma il trattamento non andava per la maggiore perché nel paese c'erano altri problemi. Però i carceri di nuova creazione sono comunque altrettanto deficitari di spazi che invece dovrebbero essere creati e previsti ad origine e poi si costruiscono prima gli spazi, poi si costruiscono le camere di pernoto, si costruiscono i muri e quant'altro. Di fatto, perché questo voi direte? Perché comunque continuiamo a lavorare sul doppio binario, non nel senso delle pene e delle misure di sicurezza, ma gli istituti penitenziari vengono costruiti dal Ministero delle Infrastrutture. Il Ministero delle Infrastrutture che non è, come dire, troppo collaborativo per una negligenza del singolo ingegnere, ma chiaramente alcune necessità non riesce a percepire, non riesce ad individuarle fin dalla fase della progettazione, per cui ogni volta si deve ricorrere ai ripari. Ti consegnano un istituto penitenziario, tu devi dire, manca quello, manca quell'altro, manca quest'altro, e quindi si ricomincia da capo con una tempistica molto lunga. Fossombrone è, dal punto di vista strutturale, credo una perla veramente molto bello, però pecca di una carenza di spazi incredibili. Diceva prima la dottoressa Di Lorenzo che nell'area nuova, appena ristrutturata, non hanno previsto gli spazi. Ora vedremo che cosa fare. Sono queste le discrasie del sistema che poi non permettono di arrivare, come dire, a raggiungere in pieno l'obiettivo, con, abbinata, una sensibilità del territorio che non è uguale in tutto il nostro paese. Questo ce lo dobbiamo dire, perché regioni come, cito la Lombardia, ma non me ne vogliate, è una realtà che io conosco molto bene, ci ho lavorato tantissimo, in alcune situazioni si è decisamente all'avanguardia e altre realtà in cui invece fai fatica ad avere anche una mera relazione o interlocuzione istituzionale con il tuo territorio di riferimento, non dico il livello regionale, ma il semplice territorio comunale piuttosto che le agenzie del territorio preposte alla formazione. Concludo perché piangersi addosso non serve a molto e noi invece dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a produrre e a combattere. Io sono molto contenta di questa giornata, ho accettato molto, molto, molto volentieri, il ritardo, ripeto, mi scuso ancora, ma ahimè, non è sempre prevedibile. E saluto questa giornata anche come, come dire, un nuovo inizio, una sorta di arcobaleno per il futuro, che ci consenta di lasciare alle spalle un periodo assolutamente tragico per tutti quanti noi e in particolare per il sistema penitenziario e si parte da una, ed è bello per questo, da un documento che richiede un'azione sinergica da parte dei tre firmatari, la collaborazione, l'interazione interistituzionale, ma in particolare la collaborazione. Si dice in questo protocollo, noi università ci mettiamo questo, il garante fa questo, ma tua amministrazione penitenziaria devi fare questo. Se ci mettiamo insieme, riusciamo ad arrivare ai risultati di cui prima parlava la professoressa Paiardi, che molto elegantemente ha detto, poi ci sono anche degli aspetti organizzativi di cui tener conto, forse ha voluto, come dire, graziarci di tutta una serie, probabilmente, di disservizi di cui avrà dovuto nel corso degli anni, ma guardi, lo so da direttore, non lo so da provveditore, cioè abbiamo fatto, capisco, però sono situazioni che poi rendono assolutamente, figuriamoci, però ci chiama in causa a tutti, chiama in causa i tre attori istituzionali, perché ciascuno faccia la sua parte. Ed è quello che si diceva poi in una videoconferenza qualche settimana fa con il professor Prina, che è stata molto, molto interessante. Non è di tutti i giorni avere dei docenti universitari che si muovono e vanno in carcere a fare lezioni, a fare esami, a fare un'attività didattica. E quindi questo deve impegnarci ancora di più per cercare di superare tutta una serie di ostacoli, di contrattempo, ma deve chiamare, come dire, alle proprie responsabilità, tra virgolette, anche e soprattutto la magistratura di sorveglianza, perché anche la libera, l'interpretazione delle attività culturali che sono alla base del permesso, spesso porta, in piena autonomia decisionale da parte del singolo magistrato, spesso porta a fare delle sperequazioni di trattamento nell'ambito dello stesso corso scolastico, della stessa attività universitaria, per cui a un detenuto viene dato il permesso e l'altro detenuto non viene concesso il permesso, laddove, per esempio, la magistratura di sorveglianza è suddivisa per letter. E questo poi non trova una spiegazione logica e razionale nei detenuti che frequentano quelle attività scolastiche. Quindi è fondamentale coinvolgere anche la magistratura di sorveglianza perché in particolare la magistratura deve credere nella bontà di queste iniziative. Concludo sottolineando un aspetto di questo protocollo che io credo che sia oltremodo, e soprattutto in questo momento, oltremodo importante ed è bene quindi condividerlo con tutti. Sembra una formula di stile, in realtà non lo è. Articolo 3,3. In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, le parti convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena deve intendersi come presenza legale e quindi dà titolo all'iscrizione all'università. Sembra una cosa da niente, sembra una banalità, ma per i nostri istituti penitenziari, la cui popolazione detenuta, non dico fossombrone, ma sto parlando, come dire, su una proiezione un pochino più regionale, ma anche nazionale, ci sono il 35, il 40% composto da una popolazione detenuta straniera, senza permessi di soggiorno, senza documenti, quindi in una situazione di irregolarità totale, riconoscere a queste persone il diritto di potersi iscrivere all'università è un passo di grande civiltà, di grandissima civiltà. Noi abbiamo una quota importante di detenuti che non sono ufficialmente, diciamo così, sul territorio dello Stato e per i quali ogni misura alternativa è comunque impedita, non può essere concessa, non può essere riconosciuta, non può essere proposta a causa dell'assenza della documentazione di tutta una serie di elementi. Pensate a tutti i detenuti stranieri tossicodipendenti che non possono accedere in comunità terapeutica perché nessuno paga la retta in quanto non sono provvisti di documenti. Quindi questo è un passaggio bello, importante, che riconosce il diritto a tutti, senza disparità, di trattamento tra stranieri, italiani, neri, bianchi, gialli, via dicendo, che fa ancora una volta di più onore a questa università. al garante, ci siamo anche noi, ci autocitiamo e quindi, bene, grazie e anche io ringrazio tutto Fossombrone, naturalmente la professoressa Paiardi che ci sopporta, il garante che ci conosce poco ma che presto ci sopporterà anche lui. Grazie a tutti, veramente. No, siamo qua, siamo. Pardon, è quello che è stato seminato da precedente garante che mi ha preceduto in questo ruolo così importante e delicato e ringrazio la professoressa Paiardi e per lei tutta l'università di Urbino e quindi il magnifico rettore che ci ascolterà, poi andranno i miei ringraziamenti successivamente. Ma ringrazio soprattutto anche il provveditorato per la sua presenza, così ci conosciamo anche di persona e questo è il bello di questa giornata e soprattutto l'istituto di Fossombrone che ha reso possibile con la direzione e con il comandante qui presenti la realizzazione e la prosecuzione di questo progetto. Un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Zampa del mio ufficio che molto si è spesa nelle virgole e quando ha detto le virgole ho sicuramente capito che il riferimento era la mia puntigliosa a dottoressa Zampa. Che dire, ho raccolto con viva soddisfazione e con entusiasmo questo progetto perché non sapete ma io ho fatto per 30 anni il penalista e quindi ho vissuto il carcere sempre diciamo da quella parte. Viverlo da quest'altra parte è stata un'esperienza come dire bellissima per certi versi drammatica per altri perché ho scoperto il mondo del carcere che fino a ieri non conoscevo appieno se non e quindi a maggior ragione come dire apprezzo gli sforzi dicevo prima alla dottoressa scusate alla dottoressa Manzelli gli sforzi di quei numeri che la dottoressa Bagliardi ci ha citato all'inizio perché so benissimo quanto è difficile far entrare anche del semplice vestiario all'interno di un carcere avendolo vissuto da quest'altra parte e quindi mi immagino la difficoltà di ordine logistico ma non solo ma anche burocratico da superare le perplessità di chi vedo il comandante che di chi deve fare i controlli su quel materiale i doverosi controlli sul materiale che entra e quindi questo va naturalmente a merito e a un plauso alla dottoressa Paiardi ma anche al carcere e alla struttura a direzione e al comandante per aver consentito la possibilità di sviluppare quei numeri di quei numeri quello che a me ha colpito di più è il numero i 20 19 iscritti al corso e il numero dei laureati veramente è una cosa come dire che meriterebbe solo questo a una medaglia oltre a quello che ha ricordato la dottoressa Manzelli cioè il diritto di studio riconosciuto anche agli istrani per spiegare un attimo per entrare nel perché il polo uno potrebbe spiegarlo semplicemente facendo riferimento all'articolo 27 con matri della Costituzione quindi l'indicativo dell'aglio in realtà io cerco di spiegarlo attraverso quello che definisco il paradosso dell'ospedale pensiamo al carcere come un ospedale dove sono ricoverati tanti pazienti con i mali più diversi chi c'ha il tumore chi c'ha come me problemi cardiaci viva Dio superati chi c'ha il covid chi c'ha e a tutti quanti un primario un po' bizzardo somministra la stessa cura e cioè la chemioterapia questo in realtà è il carcere o viceversa somministra a tutti quanti la tachipirina in un caso o nell'altro la somministrazione e la cura non è adeguata sarà adeguata per qualcuno non sarà adeguata per qualcun altro in realtà il polo serve anche a differenziare la cura e a consentire quella riabilitazione che altrimenti il nostro sistema che nasce in tempi come dire diversi chi va Dio la ritorna ha allargato le maglie di questa le possibilità di questa cura con le misure alternative che sono previste l'affidamento in prova ai servizi sociali perché no la liberazione anticipata il lavoro esterno la detenzione domiciliare e qui da questo punto di vista i primi garanti dei detenuti come ha detto prima il presidente ben detto dal presidente del tribunale di sorveglianza non sono i garanti regionali ma i magistrati di sorveglianza stessi che debbono adottare la misura precisa e adeguata al caso di specie in relazione alla pericolosità e qui il problema poi della pericolosità come ci ha illustrato bene il dottor Agostini è un problema che a volte si risolve nel lancio della monetina per stabilire il pericolo di recidivanza o la pericolosità sociale di un soggetto occorrono degli strumenti lo studio sulla personalità ma non sempre si riesce poi a determinare la cura più adeguata ma il polo in questo è la possibilità di studiare sicuramente è uno dei principali strumenti attraverso i quali si adotta quel fine rieducativo che è la costituzione cinque altro diritto primario su cui la dottoressa si è soffermata e qualche altro relatore ne ha parlato è il diritto alla sanità perché naturalmente per studiare occorre anche essere in buone condizioni di salute e da questo punto di vista faccio mie le perplessità e le preoccupazioni del provveditorato perché naturalmente all'interno della regione Marche ahimè devo sottolineare che ci sono delle gravi gravi no diciamo preoccupanti delle preoccupanti situazioni che dovremmo risolvere quanto prima perché naturalmente non è pensabile che vengano tolti l'H24 la dottoressa Manzelli sa di che cosa parla dalla sera alla mattina e quindi lasciando i direttori di alcuni istituti penitenziari con il cosiddetto cerino in mano scusate l'accostamento non è molto ma rende l'idea di quello che è e da questo punto di vista colgo sicuramente l'accenno e l'invito della dottoressa Manzelli ad una collaborazione sempre più profigua tra il provveditorato e l'ufficio del garante che poi riesce poi ad interloquire con gli uffici della regione per consentire diciamo l'attuazione non solo del polo e quindi l'impegno del polo ma anche quelli che sono gli impegni primari della sanità che come sapete dal 2008 è passata nella gestione della regione mi sono permesso che apre un inciso la dottoressa nel corso dell'incontro che abbiamo avuto con il ministro Cartavia e il dottor Petralia di sollevare insomma di toccare un tabù e ho detto che secondo me ma proprio da profano da poco che faccio il garante che secondo me forse la sanità penitenziaria fermo restando i principi sacrosanti del 2008 forse sarebbe meglio farla ritornare al ministero non vi dico non vi dico sono stato subissato da critiche da altri garanti poi dopo ho spiegato che non avevo alcuna intenzione di toccare i principi validissimi della riforma del 2008 ma semplicemente stavo constatando e poi su questo altri garanti poi siamo giunti alla stessa conclusione che il problema così gestito alla sanità crea delle evidenti problematiche per i detenuti naturalmente perché la rieducazione e gli strumenti alternativi alle misure di detenzione perché naturalmente servono per evitare quello che la dottoressa Manzelli ha detto prima cioè il pericolo della recidivanza e sotto questo profilo io vorrei ricordare gli studi della commissione Giostra che ahimè è rimasta lì in un cassetto la riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dal professor Giostra perché è stato verificato che il ricorso alle misure alternative quindi con programmi di rieducazione particolari diminuisce la recidivanza del 25% quindi la possibilità di accedere anche a queste misure alternative o forme di rieducazione consente come dire di svolgere quello che la costituzione impone e cioè il fine rieducativo termino vado alla conclusione dicendo che è volontà di questo ufficio del garante di far approvare una legge nel prossimo futuro che tolga la tassa universitaria di competenza se voi sapete che c'è una piccola quota che è 150 euro mi sembra all'anno credo che è di competenza della regione che va all'ERDIS e sto cercando di convincere l'attuale maggioranza ma credo che sia una legge che non ha diciamo appartenenza politica e di far togliere questa tassa universitaria per i detenuti che si iscriveranno ai corsi universitari ho terminato facciamo scuola perché non è una cosa no da questo punto di vista da questo punto di vista dottoressa le posso assicurare che sono stato preceduto dal collega dell'Abruzzo perché l'Abruzzo si è dotata di questa legge e io visto che ci siamo incontrati conosco tra l'altro il collega Ciffaldi che poi è professore universitario anche lui e mi aveva anticipato questa cosa che io naturalmente ho copiato quindi e a volte copiare non sempre c'era un detto che copia prende zero no grazie grazie ultimo momento di questa mattina per cui chiamo al tavolo la tutor e colonna del polo universitario dottoressa Vittoria Terni De Gregori poi Giovanna Mariani che è studentessa del corso di laurea in psicologia clinica che ha partecipato a quei laboratori durante la sua percorso di laurea triennale di cui vi dicevo è un emozionatissimo Ciro è un emozionatissimo Ciro che rappresenta non solo se stesso ma tutti i colleghi del del polo in questa giornata in cui si è parlato molto di voi e ovviamente volevamo che anche voi diceste la vostra prego buongiorno a tutti saluto le autorità presenti anche il magnifico rettore che purtroppo ha dovuto andare per altri impegni saluto il provveditore il garante il comandante di Fossombrone il direttore di Fossombrone e ovviamente oltre a salutare ringrazio vivamente tutti in particolar modo la mia coordinatrice professoressa Paiardi e chi tutti i giorni garantisce il mio lavoro a Fossombrone quindi ovviamente direttore comandante e tutto il corpo di polizia penitenziaria che tutti i giorni con fiducia disponibilità collaborazione e sicurezza soprattutto mi permette di lavorare di svolgere il mio lavoro di tutor allora due parole su che cosa faccio a livello di tutor premetto che io sono sono psicologa sono laureata in psicologia scritta all'ordine di psicologi e seguo tutti i corsi di laurea a cui sono iscritti gli studenti detenuti che quindi diciamo che il mio ruolo è quello di aiutarli nel percorso di studio vero e proprio ovvero nella metodologia di studio come approcciarsi alle materie per alcuni anche come studiare come ripetere come riassumere quindi la metodologia però sinceramente il mio lavoro è molto dedicato sul piano emotivo sul piano motivazionale sulla gestione di tante dinamiche che per forza di cose si intrecciano nel nel percorso di studi di queste persone quindi diciamo che sì sono la tutor ma sono anche sono anche una persona che cerca di rafforzare quel quel poco di di autostima che a queste persone è rimasta in particolar modo molti di loro spesso mi dicono tutti i giorni o comunque quasi tutti i giorni mi ripetono che cosa mi serve studiare sto facendo bene sto facendo male tanto dopo non vado a fare niente di quello che ho studiato chissà cosa mi serve prendere una laurea in giurisprudenza che non la posso esercitare chissà cosa mi serve studiare l'archeologia che poi non potrò esercitare niente queste sono domande che capitano tutti i giorni e che a me fanno anche piacere perché è lì che viene fuori la reale importanza dello studio della conoscenza della cultura quindi è un'importanza proprio a livello personale è una crescita un'opportunità di crescita di ricchezza interiore assolutamente fondamentale già il fatto che a volte io entro in sezione e alcuni degli studenti detenuti mi accolgono dicendomi ieri in televisione ho visto la mostra di Raffaello Rubino oppure ieri hanno fatto vedere gli scavi di Ercolano sono delle piccole cose che mi fanno però capire come si riesce in qualche modo a evadere dal pensiero di dove siamo e di si parla d'altro per me è importantissimo vederli incontrarli e si parla d'altro si parla di cose di cultura si parla di arte di tantissime cose che vanno al di fuori della realtà carceraria in cui invece siamo ovviamente concretamente presenti poi devo dire anche che oltre a agire sul piano motivazionale degli studenti mi occupo anche in maniera un po' forse ossessiva i professori anche quelli presenti lo confermano sono sono tutor anche dei professori non perché loro non siano capaci a provvedere a loro stessi ci mancherebbe ma secondo me è molto importante motivare il docente a entrare in contatto con questa realtà perché al di fuori ci si fa un'idea o comunque un pensiero che non è reale finché non lo si prova effettivamente quindi per me è molto importante parlare con il docente parlare e spiegargli come sta andando non solo ad insegnare come diceva anche la professoressa Paiardi e gli interventi precedenti ma sta andando a conoscere una realtà differente e a avere il contatto con persone che si stanno mettendo in gioco che stanno cercando di valorizzare quel poco nucleo di autostima che è rimasto volevo avremo la testimonianza in presenza però se non vi dispiace vorrei anche dare testimonianza alle altre 17 persone ristrette che studiano e che ognuno di loro mi ha lasciato una frase c'è una frase proprio di numero che diciamo dove indica la motivazione che lo ha spinto a intraprendere questo percorso costruirmi un obiettivo migliorare il mio senso di responsabilità e le mie relazioni con gli altri trascorrere giornate diverse in un luogo di sofferenza cercare di guardare oltre il muro e vedere un orizzonte nuovo fatto di studio di cultura trasmettere positività e prevenire eventuali errori grazie all'ampliamento della conoscenza e del mio panorama culturale studiare come una medicina mentale che mi distrae non mi fa pensare a tutti i problemi che ci sono all'interno e soprattutto all'esterno del carcere studiare per non avere domani una vita vuota e una vita che non si sa adattare al mondo che mi circonda studiare per un riscatto come un mezzo per riconoscere che sono capace a fare anche cose belle e positive cercare di trovare una salvezza dopo aver bruciato tutta la mia giovinezza capire i miei errori scusate capire gli errori del passato per potermi adattare al presente e proiettarmi al futuro riempire di contenuti un tempo così opprimente per la sua vacuità trovare uno stimolo per andare avanti procurare una grande soddisfazione non solo a me stesso ma anche a tutte le mie persone care Antonino che abbiamo letto anche la frase prima la cultura e il sapere rende l'uomo libero anche se fisicamente ristretto queste sono appunto diciamo quanto pensano queste persone rispetto al perché hanno deciso di studiare e di mettersi in gioco in questo percorso di studio adesso lascio la parola a Giovanna che appunto ha fatto i laboratori in carcere due anni fa giusto? Sì dunque io mi chiamo Giovanna Mariani e sto frequentando in questo momento la magistrale di psicologia clinica qui a Urbino e ho frequentato i laboratori didattici e un incontro l'incontro che citava prima la professoressa Paiardi studenti dentro studenti fuori nel 2019 quindi diciamo i mesi ottobre novembre dicembre del 2019 sono entrata nel carcere di Fossombrone insieme a un gruppo di altri studenti che appunto dovevano svolgere questi laboratori didattici insieme a un detenuto che era all'interno del carcere che faceva parte appunto del polo didattico e dunque vorrei partire da raccontarvi l'inizio diciamo dell'esperienza e quindi il prima dell'entrata in carcere noi studenti eravamo un po' preoccupati avevamo un po' paura e non sapevamo bene quello che andavamo quello che avremmo incontrato in questa esperienza perché entrare in carcere insomma non è un'esperienza che si può fare tutti i giorni quindi un po' le nostre domande erano quelle chissà cosa troveremo e anche chissà la persona che è con noi e che starà con noi a fare il laboratorio cosa ha fatto nella sua vita perché è in carcere chissà che che vita ha vissuto prima che esperienza ha fatto che crimini ha commesso per essere lì quindi questo era un po' il nostro prima i nostri pensieri prima di entrare in carcere devo dire che l'entrata in carcere è molto suggestiva per chi non c'è mai stato è un'esperienza un po' particolare infatti è necessario quando si entra lasciare tutti i propri effetti personali all'ingresso in una armaghietto e passi attraverso diversi metal detector quindi ti senti un po' in soggezione perché viene osservato e poi ecco appunto c'è l'ingresso all'interno del carcere io ho frequentato insieme ai miei colleghi questi laboratori questi incontri appunto come ci diceva prima la professoressa Paiardi all'interno della sezione quindi il nostro gruppo di studenti è entrato dentro il carcere e ci hanno portato in questo corridoio e una diciamo una piccola stanzetta questa aula dedicata appunto alla didattica quindi dove ci sono dove si sono svolti i laboratori però siamo dovuti passare in questo corridoio dove a destra e a sinistra ci sono le celle dei detenuti per noi è stata un'esperienza molto toccante molto molto importante perché è come se andassimo a casa del del nostro collega abbiamo potuto vedere ecco la realtà nella quale questi detenuti vivono e non soltanto magari no si può vedere anche in televisione come è fatto un carcere però il fatto di essere lì poter sentire gli odori i rumori di questo ambiente ha permesso anche che si creasse un'atmosfera più intima e capissimo anche bene il posto nel quale eravamo quindi poi siamo stati portati appunto in questa in questa aula e è arrivato il detenuto che avrebbe fatto i laboratori con noi allora questa esperienza è stata per tutti posso parlare anche a nome dei miei colleghi veramente importante e incisiva perché dopo poco tempo che abbiamo cominciato la lezione ci siamo accorti che non ci rendevamo conto più dove eravamo che non era più non eravamo dentro un carcere ma per noi era la stanza dell'università dove insieme al nostro collega studente stavamo raggiungendo lo stesso scopo cioè seguire la lezione che il nostro collega studente detenuto era come noi aveva i problemi con i calcoli della psicometria e faceva difficoltà a capire certi concetti che facevamo fatica noi e quindi è stato per noi è stato veramente importante perché tutti quei pensieri preconcetti che avevamo all'inizio chissà cosa avrà fatto questo detenuto sono svaniti perché non era importante ciò che lui aveva fatto prima non contava più era diventato il nostro collega il nostro collega studente che stava facendo il nostro stesso percorso e a conferma di questo successivamente alla fine degli incontri infatti questo detenuto ci ha detto vi ringrazio perché mi avete fatto sentire uno di voi quindi è stato molto importante emotivamente per noi questa esperienza e vorrei aggiungere anche che io condivido diciamo con questi studenti che ho conosciuto l'età cioè nel senso che non sono più una ragazzina però ecco questa cosa mi ha avvicinato ancora di più alla loro esperienza perché scegliere di fare un percorso universitario quando non si è più giovanissimi è diverso e quindi condivido con loro il fatto di scegliere questo percorso in un secondo momento dopo aver fatto già un percorso di vita e quindi condivido con loro anche il fatto che lo studio è un riscatto è un modo di dimostrare a se stessi e agli altri che ce la puoi fare che puoi fare qualcosa di bello e di prezioso questo lo sento io che non sono reclusa e quindi lo voglio condividere perché è una cosa che condivido con loro e lo studio ti permette di aprire l'orizzonte la mente e di riscattarti di dare una nuova vita alla tua vita di dare una nuova possibilità e quindi questo secondo me per loro è molto importante per la riabilitazione appunto perché possono trovare un modo per dimostrare di poter fare qualcosa di prezioso nella loro vita che la loro vita non è finita lì ma può avere una seconda possibilità e devo ringraziare anche la professoressa Paiardi e la dottoressa Terni perché la cosa che ho recepito io come penso tutti gli altri studenti è il fatto di quanto loro fanno questo progetto con passione che portano avanti questo lavoro con passione e anche devo ringraziarle per l'autostima la stima che riescono a dare a noi studenti sia a noi dell'università che a quelli del polo e penso che se qualcuno crede in te tu ce la puoi fare quindi le ringrazio applausi a tutti vorrei iniziare a salutare il magnifico lettore che non c'è, il garante dei detenuti, il profitorato, la direttrice, la comandante, la dottoressa Paiardi e infine la dottoressa Tetti, altri professori che ci sono all'interno che li conoscono. Sono un detenuto, mi chiamo Ciro e rappresento 18 detenuti che ci sono all'interno. Parlo della mia esperienza personale, vado all'università, un po' mi ha convinto l'artista del Pantheon, vado all'università per imparare, per la conoscenza e migliorare il mio presente per vivere meglio un futuro. La cosa importante è evadere da una quotidianità che è fatta sempre degli stessi giorni, è anche una pavola di sfogo, per me l'università, poi ci sono delle persone che incredono in questi progetti e mettiamo tutto il nostro impegno. poche parole. Mi dispiace che sono poche parole, la prima volta che parlo davanti a tutti sulle selessioni, mi stai a iniziare a sudare. Grazie per avermi dato l'opportunità di venire qua stamattina e parlare. Questo è tutto. poche parole, sono di poche parole, anche a Chiesani. Devo dire che nella piena sincerità, Ciro lo sa, io anzi spesso loro mi dicono quando ripetiamo che ci stiamo avvicinando a un esame, loro mi dicono ma ho ripetuto bene, male e quando io dico bene, loro dicono, no, stai mentendo perché mi vuoi fare un favore. No, io sono proprio sincera, perché sono lì aiutari nello studio e quindi se in quel momento lì secondo me hanno ripetuto bene, sono pronti all'esame, io lo dico sinceramente. Quindi sono sincera e Ciro lo sa nel dire che quando lui si è scritto all'università non gli davo due lire, ma glielo avevo detto. Ma ci commettevano un centesimo. E sono sincera e glielo ho sempre detto, ma questo mi ha fatto poi capire invece come in quattro anni, quasi cinque anni, abbia fatto un percorso straordinario perché partendo dall'idea che questo studente, mamma mia aiuto, non riusciamo a parlare, non riesco a capire neanche la dialettica, non riusciamo a comunicare, è riuscito a fare più di dieci esami in meno di cinque anni, in una facoltà comunque non facilissima perché scienze umanistiche, curriculum beni culturali, implica esami di letteratura, di storia, di archeologia, di storia dell'arte, materie comunque complesse che richiedono un certo impegno, una certa concentrazione e anche una certa capacità di espressione e di proprio dialettica. Quindi è l'esempio concreto di come anche questo tipo di progetto aiuti proprio a cambiare anche le idee iniziali, quindi a dire ma questa persona si vuole scrivere all'università perché? Invece no, perché vuole provare, vuole mettersi in gioco e ho avuto la conferma di questa bellissima, con questa bellissima esperienza. Alla fine del traguaglio, sia detentivo sia come studio. Grazie, grazie a tutti voi. Bene, con questa testimonianza emozionata di quello che è anche un vissuto che i detenuti hanno nei confronti dei professori. A volte si sentono in imbarazzo, si sentono come appunto se, quasi un onore che i professori vadano a incontrare, a fare lezione, si sentono appunto in soggezione, cosa che gli studenti ormai non si sentono in soggezione, cioè è un vissuto noi professori che viviamo solo in carcere, quello di studenti che abbiano soggezione. Però questo penso che sia un segno di come vivano come qualcosa di speciale, qualcosa che fuori è assolutamente normale e come vivano anche come la volta l'hanno detto, anche quando facciamo gli incontri con gli studenti come una sorta di regalo che la società civile si occupi di loro, che la società civile non vada oltre, cioè non vada oltre e passi davanti al portone del carcere, ma si fermi, si interessi, si curi e si occupi di questa realtà, mettendosi in un rapporto al di là dei ruoli, professore e studente che rimangono, ma sul piano della relazione umana e personale mettendosi assolutamente in gioco. È vero, l'ha detto Giovanna, molti studenti, molti docenti si chiedono perché sono lì, cosa avranno fatto, ma molto spesso nell'esperienza dei colleghi e nell'esperienza nostra lì c'è la persona, non c'è il loro reato. Il reato se lo sono visti col Tribunale Ordinario, con la Corte d'Appello o con la Cassazione. Lì c'è la persona e c'è un'opportunità da darsi reciprocamente di contatto con questa realtà e con queste persone per una possibilità di riscatto personale e di diversa vita fuori per chi potrà uscire, ma con una complessità ancora maggiore e ancora più profondamente umana e tormentata per chi non potrà uscire, per chi ha un ergastolo e per chi ha un ergastolo ostativo. Ed è una grande sfida, una grande opportunità e il poterlo vivere come coordinatrice del polo, questa esperienza e il poter coinvolgere studenti, docenti, personale in questa avventura è qualcosa di cui io ringrazio tutti perché trovo in primo luogo per me stessa molto arricchente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.